Un anno tremendo per i viaggiatori di Sepsa e Circunvesuviana. Lo riconosce anche l'amministratore unico di EAV Nello Polese, già sindaco di Napoli negli anni 90, che definisce il servizio di un livello indegno per un paese normale e annuncia un piano di risanamento che punta a ripianare i debiti e raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013. L'EAV, Ente Autonomo Volturno, è la società controllata dalla regione Campania che a sua volta coordina il servizio di Cumana, Circunflegrea, Circunvesuviana, Metro Campania ed Autobus EAV. I trasporti di Sepsa e Circunvesuviana hanno conosciuto quest'anno un'ondata eccezionale di disservizio. Il culmine tre settimane fa, quando il tempo d'attesa fra due corse della Cumana salì addirittura a 40 minuti e solo da qualche giorno è ritornato a 20. Non migliore la situazione della Circunvesuviana, che nei mesi scorsi ha subito frequenti ritardi e numerose cancellazioni di corse. Con l'approvazione di un piano straordinario regionale saranno a breve sbloccati i fondi per la ripresa del servizio e per la continuità delle attività in appalto, come il numero verde per le informazioni sul trasporto che da alcuni giorni non funziona. Un problema rilevante sono i costi di gestione dell'azienda, che saranno perciò razionalizzati, agevolando i prepensionamenti riducendo il numero di dirigenti, ma anche riconvertendo una parte dei lavoratori da attività d'ufficio a mansioni connesse alla circolazione. Intanto ad aprile, come annunciato dall'assessore regionale Vetrella, è partito un piano straordinario di manutenzione che dovrebbe riportare alla normalità la Circunvesuviana. Come affrontare il problema di non far gravare sul servizio il pagamento di debiti pregressi? Questa è una partita che non può essere giocata dagli aziende, è una partita della regione. Sono autorizzato a dire che in fase di chiusura la trattativa col governo è nucleare la partita dei debiti pregressi dai bilanci correnti. Sugli introiti da biglietti EAV punta a incrementare il gettito, obiettivo 35 milioni contro gli attuali 23. Nessun aumento delle tariffe, annuncia Polese, ma una serrata lotta per azzerare il fenomeno dei portoghesi.